La radice di tutto è la parola, in quanto io scrivo parole e dipingo parole che poi non puoi leggere, questo è un altro discorso scrivere è terapeutico, però io non cantando quindi non è liberatorio la pittura essendo gestuale, essendo anche fatica, è liberatoria quindi posso dire che la pittura è un po' il mio canto Grazie a tutti